C'è migliaia, milioni di persone in Europa che sono musulmane, il rischio è che questa parte possa essere considerata o presentata come contro l'Europa, non è così, ma non si può soltanto evocare il rischio, bisogna anche agire per costruire un modello sociale non unico, ma adattabile caso per caso nel quale vinca l'integrazione. Il tema qual è? Che nella globalizzazione, che produce un senso di spaesamento, di assenza di identità, in un ragazzo e in una ragazza, a cui prima la politica offrivano un senso della vita, un senso dell'impegno civile, oggi viene l'idea che il fanatismo può essere un senso della vita. Come si combatte questo? Attraverso il rilancio della politica, come passione, come elemento vitale della propria esistenza.